che facciamo stasera? vai là sopra e vedi di usare lui aiaiai fila si mangia i biscottini dove l'hai comprata sta pizza? al micro sì però non mangiare troppo pizze no dico no adesso solamente non ti mettere troppo pizze che non fanno tè poi lo rioccovi forse sei lì sedi sedi mangi il biscottino mangi viva cicco mangi di biscotto ma che questo è il dico? ma che questo è il dico? il bambino è buon conclusione sono sono Buongiorno. Uno mangia qua. L'altro mangia là. Quanti biscotti si mangia questa giorno? Vedi? Quello che vedi adesso. Quattro, quattro, uno, cinque, uno ce le do. Non pensare che ce lo... Infatti che quasi non ce l'è più. E non ce l'è più. Domani mattina ne andiamo a prendere.